Allora mister, non è stata una bella partita, una partita nervosa, la posta in pallio era molto alta, avete giocato prima una buona partita di controllo, però gli ultimi 15 minuti avete sofferto un po'. Sì, anche purtroppo l'evento influisce un pochettino anche sulle giocate e il campo, però era una partita di un'importanza vitale per entrambe le squadre, quindi già in principio si immaginava una partita dalle poche emozioni, poche conclusioni soprattutto. Un punto che ti accontenta? No, veramente siamo partiti con l'idea di provare a vincere la partita No, adesso dico, alla fine Sì, nell'economia della partita, anche se ho qualche dubbio su qualche episodio in aria, non so, tu mi puoi dare qualche... Sì, abbiamo anche noi qualche dubbio, sì, sì, su quello a fare... Su Adam Camfri sembrava un rigore netto, però non sto qui a sindacare l'operato dell'arbitro, però è stata una partita che logicamente è tirata, una partita nervosa ma corretta, però la posta in pallio era troppo importante, quindi lo spettacolo è venuto meno. Sì, diciamo che ti sono un po' mancati alcuni uomini, che ho visto anche altre volte, che hanno dato un po' di più, hanno curato più la fase difensiva, ho visto Cava, lo stesso Camfri, pochi inserimenti per aiutare Catania lì davanti Sì, ma questo è dettato soprattutto dall'inizio dell'azione, abbiamo deciso di non iniziarla proprio con palla a terra, abbiamo iniziato l'azione sempre con palla lunga perché diventa problematico e si avvantaggia l'avversario sulla pressione, logicamente, provando a impostare da dietro, siccome la partita era molto importante ho deciso appunto di non rischiare nulla Grazie a tutti